Allora ragazzi vi insegnerò questo gioco per cui serviranno i quattro assi Allora qui abbiamo asso di picche, asso di quadri e asso di fiori Ora io giro tutto, sposto l'asso di quadri qua E vi chiedo dove sta l'asso di quadri? Se avete risposto qua avete sbagliato L'asso di quadri è sempre stato qua Qui c'è sempre stato quello di cuori